Mi trovo qui oggi per presentare quello che è il provvedimento contro uno che è un capitale storico del paese della collettività di Montefiore. È stato varato un provvedimento per la tutela della salute pubblica all'interno del centro storico abitato da 100 persone per limitare le emissioni dei camini delle abitazioni e di tutti quelli che fanno attività commerciali all'interno del centro abitato. C'è un piccolo problema che facendo questa limitazione si impedisce alla vecchia bottega storica di Montefiore Conca di continuare a lavorare sempre come ha fatto con il suo forno a che produce particolari manufatti con cotture speciali e con prodotti che hanno una loro particolarità. Questo cosa ci ha portato a richiedere in Consiglio Comunale? L'esclusione da parte del provvedimento che botteghe di interesse storico e questo non ci è stato nemmeno preso in considerazione. Il provvedimento così facendo obbliga la proprietaria del piccolo forno a chiudere la sua attività perché non potendo più cuocere con il forno a legna o cambia il tipo di sistema di cottura delle ceramiche perdendo poi il risultato particolare della cottura o si dovrà adattare facendo investimenti per i nuovi forni, cosa che molto probabilmente non si potrà permettere. Quello che in più mi dà fastidio è il fatto che in pochi minuti si si accusa una discussione, anzi non si sia neanche voluto aprire e che non si sia voluto affrontare il fatto che fino ad oggi è sempre andato bene, è sempre stato utilizzato per decine di anni il forno e non ha mai creato problemi. L'improvviso è diventato un problema per la salute pubblica e questa cosa è veramente inaccettabile perché quella bottega è un patrimonio storico, artistico, culturale di tutta la collettività montefiorese, anche se di un privato, perché è una risorsa turistica, è una caratteristica che produce prodotti tipici che non puoi trovare in altre parti d'Italia perché di botteghe come quelle ce ne sono al massimo 5 in tutta Italia. Così facendo 800 anni di storia vengono chiusi con una discussione in Consiglio Comunale di pochi minuti, neanche pochi minuti.